Allora, a voi! E con soddisfazione a lavorar davvero e poi senza pensione Ho visto molte facce che con ostinazione si litigano l'osso anche in televisione Famiglie coraggiose in questo mio paese E mentre voi parlate non arriva a un fine mese Lasciate libero il basso anche di nord Lasciate libero il basso anche di nord Per parlare poi di testini a prima Roma Dove di antico e solo il culo e la poltrona Ho visto molte volte i governanti d'occasione Dicevano di cambiare ma senza soluzione Mi occupo da di spesso e con soddisfazione A vivere davvero in alta dimensione Ho visto molte volte un'andor riflessione Volevo sai cambiare ma non questo è soluzione Lasciate libero il basso anche di nord 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 E voilà Bravissimi ragazzi Grazie Bellissimo il sound Grazie